adesso ragazzi se ci metto il vincolo della iniettività invece cioè la iniettività che vuol dire che le diverse caselle dovranno contenere elementi quindi 4 per 4 per 4 è una discendenza 4 per 3 per 2 sono le famose disposizioni semplici quindi com'è la formula anziché per dire 4 per 4